Oggi si riparta alla grande! Pronti per il Back to School! Quando cerchi una ricetta, solo una formula è perfetta Se vuoi vivere con gusto, due cuore e una cappa è il posto giusto Bene, benvenuti qui! Ciao a tutti e benvenuti alla nostra cucina! Come state oggi? Cina reale! Oggi state bene? State seduti? Come siete? Bene ragazzi, oggi siamo qui per un video informativo Io sapete, quando venga a sapere delle offerte di Amazon vi allerto Quindi allerta rossa, perché su Amazon dal 2 al 9 settembre c'è il riparti alla grande e il Back to School Con tante offerte settimanali, insomma, con tante offerte durante questa settimana, dal 2 al 9 Noi lo facciamo sempre! Essendo affiliati a Amazon Prime, noi sempre vi diciamo State attenti! In Infobox vi lasciamo una marea di prodotti con sconti esagerati Per una ripartenza settembrina all'insegna anche del rinnovamento della cucina Vabbè, ma non solo! Anche in previsione del Natale Quindi pensate anche a questa settimana di sconti per fare qualche pensierino per Natale Sì, infatti, potete approfittare, io vi ho detto anche sul mio altro canale, Ombretta Se non mi seguite lì, venitemi a cercare Che quest'anno con Gabriele, da clienti e non da affiliati a Amazon Abbiamo fatto scorta di un po' di cose con le vecchie offerte E ci marcieremo per tutto l'anno con quelle cose, risparmiando un bel po' Noi vi diamo la dritta di queste offerte Ci sono macchinette del caffè a prezzi ottimi Ho visto che ci sono vari suppellettini per la cucina Molte cose per i bambini, per la cura e il benessere anche in cucina dei bambini Per fare gli omogenizzati Moltissime cose che riguardano magari l'aspirapolvere Tutto quello che concerne la pulizia della casa Moltissimi elettrodomestici di quelli che mi vedete alle spalle C'è una super offerta da Kenwood Ho visto tantissimi elettrodomestici della Icook Molti forni a microonde Insomma, se vi interessa un nuovo elettrodomestico o qualcosa per la casa Vi allertiamo, questo è il momento di andarla a cercare su Amazon Perché c'è appunto il riparti alla grande Sconti altissimi dal 2 al 9 settembre Se volete io qua giù ho fatto una selezione che ho ritenuto più utile Per quelli che sono i miei gusti e le nostre esigenze familiari Se pensate che io possa darvi dei suggerimenti utili li trovate qua sotto Questa non è una spinta agli acquisti È soltanto un vi avviso C'è questa possibilità Se ne avete bisogno approfittatene Se no, vi passate il video E ci vediamo al prossimo Vuoi dire qualcos'altro? Sì, c'è anche il fatto che si possono reperire libri scolastici su Amazon E quindi dato una chiara Sì, sì, sì In che senso? Puoi mettere su Amazon i libri? Sì, sì Forte, senza fare la fila? Senza fare la fila Forte! Allora, raccontagli perché questa cosa non ho letta Su Amazon selezionando c'è un'opzione Dove voi potete mettere il nome della scuola Quindi vi escono tutti i libri di testo adottati in quella scuola appunto E per una spesa di almeno 20 euro ricevete un buono di 5 euro No, pure? Sì Va bene Quindi questo può essere sentito al telegiornale tantissime storie sui libri Quindi questo potrebbe essere rincente E non solo ci sono anche tanti sconti sui perzi di copertina Fantastico Quindi tutto quello che concerne il ritorno a scuola E per meglio avviarsi alla scuola Che ne so, un buon cappuccino la mattina Lo trovate in questo momento su Amazon Con il back to school e il riparti alla grande Basta cianciare Non perdete tempo perché tutte queste offerte si stoppano il 9 di settembre Tutti i link li trovate qua sotto E molti altri potrete scovarli spulciando su Amazon Quindi noi vi salutiamo e ci ritroviamo sempre qui per una ricetta Sì, sì, qua sulle vostre tavole Ciao